Ben ritrovati gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale del Veneto orientale. In apertura subito parliamo di cronaca, andiamo subito a sentirci allora il primo servizio. La conferenza dei sindaci del Veneto orientale si espande verso Venezia, pronti ad entrare i comuni di Cavalino Treporti e Quarto Daltino. La Giunta regionale ha approvato il disegno di legge mirato a modificare e integrare la legge regionale del 22 giugno del 1993. Iniziative per il decentramento amministrativo per lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale. La delibera è stata presentata dal vicepresidente Gianluca Forcolin, titolare della delega per i rapporti con gli enti locali. Dopo questo passaggio il disegno di legge ora proseguirà il suo iter per essere sottoposto al voto del Consiglio regionale. Questo disegno di legge, spiega Forcolin, nasce da un'istanza del territorio. Abbiamo raccolto infatti i suggerimenti venuti dalla stessa conferenza e li abbiamo affinati ed elaborati in una serie di incontri tecnici con le strutture regionali. Un lavoro importante svolto con il coinvolgimento e l'impegno anche di tutti i colleghi consiglieri dell'area, sia di maggioranza sia di minoranza. Ora che il DDL ha avuto l'approvazione della Giunta, auspico che l'iter consigliare prosegua rapidamente e dentro fine anno la legge sia realtà. I punti di modifica della legge regionale sono 5 e è stata estesa l'area di riferimento. Ai 20 comuni del Porto Guralese e San Donatese si aggiungono dunque Cavallino Treporti e Quarto Daltino per un totale di 22 enti locali. È stato inoltre esteso il ruolo della conferenza che avrà anche compiti di valorizzazione e sviluppo del territorio, industria, artigianato, turismo, commercio, servizi e agricoltura. Ed è stato inserito un articolo che identifica nella conferenza il luogo rappresentativo della zona omogenea. Si stabilisce che la Giunta regionale identifichi annualmente i criteri e le modalità per l'erogazione delle somme da designare agli interventi previsti dalla legge e si introduce un meccanismo di coordinamento per la conferenza dei sindaci del litorale. Stiamo parlando, prosegue il Vicepresidente, di un intervento volto ad aggiornare una legge che ormai ha più di 25 anni. Ma non solo, si delineano anche alcune soluzioni per rafforzare la governance locale e tra queste l'allargamento dell'ambito territoriale ai comuni di Cavallino Treporti e Quarto D'Altino. Il ruolo della conferenza dei sindaci inoltre acquisisce maggiore forza grazie all'allargamento degli interventi finanziabili dalla Regione. Ma in questo scenario si inserisce anche il dibattito sul possibile passaggio del comune di Quarto D'Altino e Marcon alla Ulse 4, un'ipotesi nata sulla falsariga di ciò che è avvenuto per Cavallino Treporti che era stata ventilata dallo stesso Forcolina non solo per rafforzare l'azienda sanitaria del litorale ma anche per implementare le attività e le strategie del Veneto orientale in chiave regionale. Adesso subito agli altri servizi. Siamo in compagnia di Angelo Boscolo Zemelo, lei è di Chioggia, lei è Presidente dell'Ordine dei Periti Industriali della città metropolitana di Venezia. Ecco voi insieme a tutti gli altri ordini degli architetti eccetera avete realizzato dei progetti e comunque avete cercato assieme di fare alcuni esempi in modo che la cittadinanza possa essere informata su queste nuove iniziative ma soprattutto anche attraverso i bonus che hanno poi per arrivare a questo. Ecco, una sua considerazione poi di questi lavori e di questo convegno? Allora, io sono stato interessato di questa operazione da Confartigianato un paio di anni fa. Abbiamo iniziato i primi incontri per cercare di capire come si doveva procedere, i gruppi che dovevano essere realizzati e le zone dovevano essere interessate da questa verifica. La cosa è partita con una certa, diciamo, lentezza per poi nell'ultimo anno, nel 2019, una volta definita questa fase iniziale, i vari gruppi che dovevano operare nelle varie zone, siamo arrivati a concretizzare i lavori di questi quattro gruppi, tradurli in progetti reali. I quattro interventi che sono stati individuati sono stati individuati assieme all'Associazione Nazionale degli Amministratori di Condominio e con loro quindi abbiamo provveduto a organizzare per ogni singolo progetto un quadro completo di quali che potrebbero essere gli interventi, gli inconvenienti che sono presenti e quello che potrebbe essere il costo e soprattutto alla fine anche quello che potrebbe essere il recupero del costo dopo un certo periodo di uso di questo tipo di attività, in questo quadro abitazioni indubbiamente. Detto questo, la cosa che io aggiungo è questa, si parlava sì di recupero della struttura dell'appartamento e dell'abitazione, ma il risultato, dobbiamo considerare che è anche valido per quanto riguarda il miglioramento della sicurezza all'interno degli edifici, il miglioramento del confort all'interno degli edifici e il miglioramento di quello che potrebbe essere anche la valorizzazione economica del bene di cui uno è in possesso. Quindi è un insieme di cose positive, oltre a quella che chiamiamola negativa, che è il costo iniziale per realizzare tutte queste opere. Quindi queste valutazioni sono state fatte in maniera molto concreta e anche molto attenta da parte dei vari gruppi di lavoro nelle singole zone che partiamo da Sandonà, Portoguaro, Mestre, Dolo e Chioggia e qui si è individuato che il recupero poteva essere realizzato oltre al risparmio determinato da vari finanziamenti che potevano essere erogati e ricevuti dal singolo committente, il risparmio si concretizzava, non immediatamente perché era una spesa, ma però aggiungendo sia il risparmio, sia il confort, sia per quanto la sicurezza e quant'altro, direi che in pochissimo tempo si può ottenere un risultato positivo con soprattutto un'abitazione, un appartamento con costi molto limitati perché il degrado è molto evidente, riprende un valore economico che è importantissimo, quindi direi che la cosa non può essere che positiva. Quindi il prossimo passaggio è trovare adesso con l'associazione, con gli ordini professionali, con il confort azionato che inizialmente deve gestire perché dopo le opere devono essere eseguite, trovare effettivamente poi le aree dove non singolarmente come campione, ma le aree in cui bisogna diffondere questa idea, diffondere inizialmente tutto quello che può essere di positivo per quanto riguarda le relazioni di questi miglioramenti dei cose. Profondo cordoglio ha suscitato nella comunità di Caora la notizia della morte di Yuri Inferrera, noto ristoratore del posto. Inferrera è morto nella tarda serata di lunedì all'età di 44 anni, era ricoverato all'ospedale di Vicenza perché aveva recentemente subito un'operazione, soffriva infatti di problemi cardiaci e pare che la morte sia sopraggiunta a seguito di complicazioni post-operatorie. Lascia la madre, Angela, la compagna, l'area alla quale era molto legato oltre alla vita familiare condividevano anche il lavoro. Insieme alla compagna Yuri gestiva infatti l'osteria Amici miei di Calegallo nel pieno centro storico di Caorle. Instancabile, il lavoratore era conosciuto non solo per la sua abilità tra i fronnelli ma soprattutto per il suo grande sorriso. Sui social network e per tutta la giornata di ieri si sono succeduti numerosi ricordi di Yuri che proprio per il suo carattere così solare e gioviale era profondamente amato da tanti caorlotti. Il sorriso fatto persona, la gioia di vivere, così lo ha ricordato su Facebook un'amica di veca data di Yuri pubblicando una foto che li ritrae insieme. Un'icona di Caorle, una professionista, un amico, un fratello invece il tributo di un'altra amica del ristoratore. Diversi anche i colleghi del mondo della ristorazione e del commercio che lo hanno voluto ricordare con affetto. E anche il sindaco Luciano Striuli a nome dell'amministrazione comunale si è detto vicino alla compagna e alla famiglia inferiera colpita da questo lutto improvviso. Prima di gestire l'osteria in centro storico, Yuri aveva gestito il ristorante sempre all'insegna amici miei in via Manzoni. Pare che adesso avesse in progetto di spostare l'osteria in un'altra cale del centro storico per offrire ai clienti maggiori spazi. La sua ottima cucina, l'inesaurabile allegria che lo contraddistingueva. Siamo con Stefania Moro, lei è assessora della cultura del comune di Ponte di Piave. Oggi la ricorrenza ai caduti della Prima Guerra Mondiale, ma voi avete inaugurato sempre oggi un museo a ricordo dei reperti della Prima Guerra Mondiale. Non molto grande, ma molto significativo anche con il recupero di una chiatta che avete trovato nel Piave e che adesso noi abbiamo occasione di vedere nell'immagine di copertura. Perché avete scelto poi questo posto vicino alle scuole? Abbiamo scelto questo posto che ospitava delle macchine d'epoca di una tipografia sempre del territorio di Ponte di Piave, una tipografia storica. Queste macchine erano state trasferite in parte a Porto Bufolè nel museo, in parte nella Pineottaca di Cornuda. Abbiamo dato ulteriore evidenza a questi macchinari, pronto perché non bisogna dimenticare, perché la memoria è importante. Abbiamo detto prima, abbiamo sentito anche nell'Omelia un popolo senza memoria, un popolo senza cultura. Questa cultura vuole arrivare in primis alle scuole ma anche a tutta la cittadinanza. Quindi abbiamo trovato questo luogo raccolto per testimonianza e questo è un importante referto. Ci auguriamo che i visitatori, e l'intento dell'amministrazione è questo, che i visitatori possano venire in un percorso a Ponte di Piave collegato con la biblioteca e quindi con le scuole, perché abbiamo il dovere di trasmettere alle nuove generazioni e ai nostri ragazzi quella che è la nostra storia. E questa chiatta è una testimonianza importante, l'abbiamo sentito prima. basta pensare al ritrovamento, ai morti e all'uso che ne è stato fatto durante le guerre. Ecco, speriamo che la gente possa venirlo a vedere, perché pur non essendo molto grande, ma è molto significativo, per cui un lavoro anche importante da chi l'ha fatto. Certo, un lavoro importantissimo e gratifica il lavoro anche di poter unire la Casa Museo con il Fredo Parise. Quindi ecco perché abbiamo unito la biblioteca, un bene prezioso e da un valore inestimabile a livello culturale che ci ha lasciato il nostro poeta scrittore, unire tutta questa parte alle scuole e di conseguenza a questo museo. Ecco, volevamo creare questa sinergia, perché chi viene a Ponte di Piave possa visitare il tempio, io chiamo della memoria, importante che è la storia di questo paese, ma anche di tutti noi italiani. Oggi è un giorno importante per il Consorzio di Bonifica, perché ha aggiunto questo importante tassello che è la testimonianza documentale e quindi dal punto di vista oggettivo di quella che è stata la nostra storia, il nostro passato, il nostro territorio che parte da terreni di palude, di bonifica e che oggi sono diventati così ricchi anche dal punto di vista socio-economico. Per cui mettere a disposizione un patrimonio di questa portata non è solo un elemento fondamentale per conoscere la storia e per lasciarla a chi verrà dopo di noi, ma è anche un elemento perché da remoto i funzionari stessi dell'ente, quelli della regione, chiunque possa attingere a informazioni utili dal punto di vista culturale può avere un bagaglio importante, ma anche penso dal punto di vista turistico. Noi abbiamo la fortuna di essere a pochi chilometri da un litorale che ha oltre 30 milioni di turisti, pensiamo che le piste ciclabili piuttosto che i manufatti idraulici che rappresentano la nostra storia possano diventare veramente un motivo di turismo emozionale e quindi di far vedere quello che 100 anni fa si è fatto in modo non banale e non con la strumentazione meccanica che oggi abbiamo, ma con tanto sudore, tanti muscoli e tante pale e badili abbiamo creato quello che oggi invece è diventata una ricchezza e un patrimonio per questo territorio. Per cui il ringraziamento va prima di tutto ai nostri avi e a chi ha prodotto tutto questo. Ma oggi è il consorzio perché ha messo un ulteriore tassello, come dicevo, e mette a disposizione un bagaglio storico-culturale assolutamente importante, non solo dal punto di vista professionale ma anche per capire la nostra storia, da dove arriviamo e può servire ed essere utile sicuramente anche per i mutamenti climatici in atto e per gli studi che da qui ai prossimi anni saranno necessari appunto per combattere ma soprattutto per tutelare questo territorio così prezioso. Gli scatti dal territorio con Vinicio Scortegagna. I nostri servizi, i nostri live li trovate sulla pagina Facebook di Media24. Ci fermiamo con questa edizione, torneremo con le altre nel corso della giornata. Rimanete con noi, alla prossima!